Questa mattina la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri, in particolare gli agenti della squadra mobile del Commissariato Ponticeri della Questura di Napoli e militari dei Nucle Investigativi dei Carabinieri di Napoli e Torra Annunziata, hanno eseguito un'ordinanza di custodia catturale messa dal GIP del Tribunale di Napoli, sul richiesto della Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di 63 destinatari, in quanto ritenuti a vario titolo gravemente indiziati di associazioni di tipo mafioso, estorsione e detenzione di armi. Gli indagati risultano legati a vario titolo al cartello criminale camorristico denominato De Luca Bossa Casella Minichini di Naldi Reale, attivo nella zona orientale di questo capoluogo. Il provvedimento dispone per 57 persone la custodia catturale in carcere, per due gli arresti domiciliari e per quattro il divieto di dimora nel Comune di Napoli. L'ordinanza compegna gli esiti di una vasta attività di indagine, coordinata dalla distrazione distrettuale antimafia di Napoli, avviata nell'aprile 2016, in seguito ad un sequestro di sostanza stupefacente e di alcuni manoscritti presso una delle abitazioni in cui veniva gestita l'attività illecita del gruppo criminale. Indagine poi ampliata nel tempo raccogliendo importanti elementi probatori sull'associazione in questione. Un secondo segmento di attività avviato nel settembre 2020, a seguito di alcuni atti intimidatori nei confronti di cittadini del quartiere Ponticelli, ai quali venivano chieste somme di denaro in cambio del mantenimento o dell'ottenimento di alloggi popolari, ha consentito di documentare l'attuale permanenza del clan e delle relative attività illecite. Il provvedimento eseguito è una misura catolare disposta in serie di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi ai mezzi di impugnazione e i destinatari dell'attesa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti, fino a sentenza definitiva.